e buon pomeriggio buon pomeriggio grazie che gentiluomo avete pranzato sì? bene ben ritrovati allora dobbiamo parlare prima di tutto di un'iniziativa legata ad un libro ah sì? però siamo qui intanto per parlare dei libri di Paper First che è la casa editrice del fatto quotidiano che quest'anno compie sei anni io non pensavo sono volati insomma abbiamo pubblicato grandi libri importanti più tardi avremo come ospite Fabio Mini Alessandro Orsini insomma sarà un lungo pomeriggio però adesso intanto parliamo di un'iniziativa importante perché stanno per ripartire le scuole allora è giusto che i ragazzi vadano a scuola con un'agenda particolare è già il secondo anno? è già il secondo anno lo guardiamo insieme vediamo un piccolo spot ciao sono Piff e volevo dire questa cosa io per molti anni non sapevo che diario usare a scuola adesso l'ho capito dice è un po' troppo tale vabbè c'ho una figlia casomai tramando a lei questo mio desiderio cioè di comprare e usare il diario illegal il diario della legalità perché? perché oltre all'orario provvisorio l'orario definitivo come tutti i diari c'è qualcosa in più in questo diario raccontiamo la storia delle persone che hanno combattuto la mafia non solo questo diario ha anche un'estensione informatica ho usato un'espressione da vecchio nel senso che se col cellulare inquadrate il codice a barre si aprirà l'app Noma e lì ci saranno storie le storie di queste persone in maniera raccontata in maniera più ancora più approfondita con video e interviste e animazioni e biografie insomma tutto in un diario vi state chiedendo ma io dove posso prendere questo diario perché lo voglio benissimo lo trovate col fatto quotidiano in edicola e dal 26 maggio in tutte le librerie e cartolerie d'Italia quindi cartolerie con pigna scuole spaggiari in tutte le librerie le migliori e le peggiori e dal 26 maggio ma la chicca la ciliegina sulla torta che c'è anche una mia prefazione se siete fortunati anche c'è la striscetta con la mia foto ma cosa vorrete di più cosa vorrete di più e allora grazie a PIF illegal che troviamo anche dal bookshop all'entrata ricordiamo se avete dei nipoti o figli cugini insomma regalate gliela perché è un'iniziativa importante allora arriviamo al primo ospite è stato parlamentare del Movimento 5 Stelle sul fatto e su TV Loft abbiamo letto e visto i suoi reportaggi in giro per il mondo e quest'anno è stato anche la mente la voce del podcast ostinati e contrari ostinati e contrari voci contro il sistema e il suo fortunatissimo libro Alessandro Di Battista eccolo buonasera buon pomeriggio grazie buonasera e invece io a premetto sono legata a lui per motivi di cuore nel senso che gli voglio un sacco di bene lui è un artista un attore un cantante uno scrittore davvero un intellettuale insomma tra l'altro un uomo che non ne fanno forse più così e quindi sono contenta di chiamare Moni Ovadia grazie Moni una delle voci più alti di ostinati e contrari arriviamo ad un'altra voce giornalista saggista è stata deputata al Parlamento europeo le sue posizioni sulla guerra sono ben note ai nostri lettori una delle firme più illustri del Fatto Quotidiano Barbara Spinelli buon pomeriggio Barbara benvenuta e grazie è molto emozionante vero? e allora con noi c'è il vice direttore uno dei vice direttori del Fatto Quotidiano nonché direttore di Paper First nonché uno dei più grandi inchiestisti italiani Marco Lillo ciao Marco grazie ci vediamo ci vediamo dopo grazie buonasera a tutti e io sono veramente onorato di essere qui a presentare questo libro un libro che è figlio di un podcast un podcast della divisione del Fatto Quotidiano che ci occupa dei podcast di Alessandro di Battista appunto con lo stesso titolo Ostinati e Contrari e quando io ho avuto modo di ascoltarlo ho pensato questo è un libro naturale diciamo è raro trovare una concentrazione di pensiero di forme rispetto al cosiddetto pensiero mainstream così interessante come questa e quindi aggiungendo una lunga e bella prefazione Alessandro ha accettato di trasformarlo in un libro e sono onorato di essere qui a presentarlo con una delle personalità più importanti che scrive sul nostro giornale che Barbara Spinelli non aggiungo altro e con Monio Vadia ripeto non c'è titolo migliore di Ostinati e Contrari e quello che io vorrei sottolineare è che gli Ostinati e Contrari che sono qui sul palco sono persone che hanno pagato duramente l'essere sinceri veri reali attenti a quello che dicevano al proprio campo non è facile sapete dire le cose scomode ai propri cioè a volte è più facile dirlo agli altri immaginate nei talk show quante volte capita di vedere queste liti durissime ma quando mai capita di vedere qualcuno in televisione che magari fa parte dei 5 Stelle e attacca i 5 Stelle che fa parte di Forza Italia e dice beh effettivamente Dell'Utri non è proprio una brava persona non è non è molto facile ecco il pensiero di forme dentro un gruppo che sia un gruppo editoriale che sia un gruppo vogliamo dire religioso che sia un gruppo politico vale tanto perché vuol dire l'anima critica di qualsiasi gruppo che fa parte della società senza questo pensiero di forme pensate quante cose non sarebbero accadute pensate a Giordano Bruno pensate a quante persone nella storia sono state fondamentali per andare avanti ecco quindi questo libro secondo me io l'ho interpretato nella mia veste di direttore editoriale della collana della casa editrice Paper First proprio come un omaggio a quelli che permettono al proprio gruppo di restare umano di restare attento a non diventare sempre soltanto un gruppo che si autoalimenta e cerca soltanto di tutelare se stesso e non l'intera società e allora partirei da qui partirei da da uno ostinato e contrario per diciamo per destino per per scelta come Alessandro Di Battista allora Alessandro sono personalità molto diverse quelle che sono presenti nel libro ovviamente anche quelle che sono qui sul palco sono molto diverse tra loro però ricordiamolo chi sono i protagonisti di questo libro anche quelli che non sono qui sul palco e ci puoi dire perché tu hai voluto fare questo omaggio al pensiero ostinato e contrario buonasera a tutti e grazie e grazie Barbara grazie Moni ma fondamentalmente ultimamente Barbara è una persona del me molto importante perché grazie a un pezzo che ha pubblicato lei per il fatto una guerra nata da troppe bugie io ho trovato anche la forza di andare in Russia di fregarmene degli attacchi che sapevo che sarebbero arrivati Moni lo conosco più da tempo lo apprezzo perché è un ebreo che ha sposato la causa palestinese come me io mi sono schierato dalla parte dei palestinesi senza se e senza ma fanno parte di questo libro sono autori in un certo senso di questo libro altre persone che stimo immensamente Marina Vannini che la conosco da tanti anni è veramente un esempio la sua lotta piena di dignità per avere giustizia è la mamma di Marco Vannini Ilaria Cucchi secondo me se il paese oggi è un po' più civile anche grazie alla lotta che ha fatto Ilaria Cucchi per ottenere giustizia rispetto alla morte di Stefano c'è un altro giornalista presente che è Tony Capuozzo che anche lui ultimamente è finito sulla graticola soltanto perché ha osato ricordare come dire anche le responsabilità occidentali rispetto alla guerra in Ucraina ha sollevato non dei dubbi ma ha chiesto come dire che venga fatta luce su tante cose che sono successi nei primi mesi di guerra e anche lui è presente e mi ha stupito una persona un inviato contro la guerra così pieno di umanità poi c'è il professor Barbero che per me e per tanti altri è un mito assoluto e io lo lo seguo da tanti anni e l'ho conosciuto e lui ha letto anche i reportage che ho scritto per il fatto quotidiano anzi grazie al fatto grazie a Marco che mi ha mi dà l'opportunità mi ha dato l'opportunità di andare in Russia di fare un viaggio che ho sempre sognato 13.000 km in treno e tentare di capire un paese che non viene compreso qui perché esiste una propaganda molto pericolosa in Russia esiste una propaganda molto pericolosa in Occidente in Italia in particolare pensate a come è stato trattato Draghi nell'ultimo anno e mezzo ditemi se questa non è propaganda o non è un'assenza di libertà da parte della carta stampata e del sistema mediatico e anche mi ha dato che c'è un ragazzo con la maglietta di Assange io cerco sempre anche quando vado in televisione Marco di ricordare sempre quello che non viene ricordato Assange i palestinesi le nazionalizzazioni i vaccini i vaccini che sono diventati una battaglia geopolitica perché il vaccino russo no perché è russo meglio tutti i vaccini americani solo perché sono americani non perché magari servono più degli altri no anche si fanno battaglie geopolitiche anche sulla nostra pelle se ci pensiamo e poi c'è o quelli cubani prodotti dalla casa farmaceutica pubblica bio cuba farma grazie per avermelo ricordato e poi Alessandro Barbero anche lui è considerato putiniano perché ha osato credo sul Rai 3 dire una verità storica in Ucraina ci sono cittadini ucraini che non si sentono ucraini ma si sentono russi e questa è una verità storica e oggi che c'è stata questa controoffensiva ucraina e c'è ed è la prima volta dall'inizio della guerra che cresce un malcontento contro Putin in Russia io sto in molte chat telegram perché considerate che telegram è uno strumento di grande grande diffusione di informazioni in Russia in una metropolitana russa tutti hanno il cellulare e tutti leggono chat telegram dove scrivono persone intellettuali prendono posizione delle persone politici ci sono le chat di singoli politici io le seguo queste chat per informarmi proprio perché non mi fido del TG1 non mi fido del giornale non mi fido di Repubblica soprattutto non mi fedo di Repubblica oggi ed è la prima volta che c'è un malcontento che cresce contro Putin di un doppio standard chi è contrario e esistono le persone soprattutto i più giovani in Russia contrario all'intervento in Ucraina e chi considera Putin un pappamolle uno troppo debole è incredibile questo ma in Russia esiste una parte pubblica opinione che ritiene che lui non si sia comportato adeguatamente dal 2014 ad oggi non ha difeso adeguatamente cittadini russi del Donbass quanti giornalisti in Italia sanno quanti voti ha preso alle ultime elezioni per la Duma il partito comunista russo quanti lo sanno il partito comunista russo ha preso quasi il 20% più di quelli che prenderà il partito democratico le prossime elezioni sempre troppi tra l'altro ed è all'opposizione di Putin perché è all'opposizione perché ritiene che Putin non abbia difeso i cittadini del Donbass dal 2014 in poi come avrebbe dovuto quindi a coloro che ipotizzano ancora estremamente difficile il cambio di governo in Russia sappiano costoro che se va via Putin non è escluso che arrivi una persona più a destra di Putin più violenta di Putin è capace di far quello che magari gli americani hanno fatto in Iraq in Afghanistan occorre capire queste cose occorre dirle anche se io già so come vengo cosa si dice di me quel che si è scritto di Barbara quel che si dice di Moni quotidianamente cioè in questo paese chi sostiene la causa palestinesi i palestinesi sono un popolo semita viene considerato antisemita questo avviene nel nostro paese semilibero e dato che c'è quel ragazzo con la maglietta di Assange io ho capito una cosa relativa ad Assange sapete perché lo vogliono far marcire in carcere ormai quello che doveva denunciare l'ha denunciato tante cose che doveva rendere pubbliche le ha rese pubbliche il punto è che Assange che muore in carcere condannato a 175 anni di carcere è un esempio per tutti gli altri punirne uno far marcire in carcere uno per far sì che nessun altro abbia il coraggio di dire quello che dice Moni abbia il coraggio di scrivere quel che scrive Barbara abbia il coraggio di opporsi ad una guerra ancora di più oggi oggi che la narrazione sarà avete visto servono più sanzioni servono più armi sappiate che se Putin è ancora alto nei sondaggi è grazie alle sanzioni che non hanno colpito come ritenevano che avrebbero dovuto colpire la Russia che politicamente non l'hanno indebolito e che hanno un unico effetto che stanno raggiungendo la divisione dell'Europa dalla Russia e per noi è un danno colossale da cui ai prossimi trent'anni avvicinare Mosca a Pechino allontanare la Russia dall'Unione Europea è un danno del quale ci renderemo conto perché ormai è fatto secondo me irreversibile Barbara noi discutiamo nei prossimi trent'anni questo libro è un manifesto al pensiero critico a un pensiero anticonformista in un momento di grande conformismo in Italia in cui tutti i partiti politici sventolano questa agenda Draghi fantomatica cos'è l'agenda Draghi è un problematiche sociali quotidiane dramma per i padri di famiglia demografia sempre più drammatica un popolo quello italiano in via di estinzione secondo l'Istat nei prossimi 50 anni diminueremo di 14 milioni di abitanti il popolo italiano in via di estinzione e geopolitica e demografia vanno viste di pari passo il governo Draghi è stata una legge cartabia che oggi i principali magistrati antimafia reputano che sia un regalo ai delinquenti questo è stato il governo Draghi è stato dipinto come il governo fantasmagorico del Deus Ex Machina del non lo so dello stupor mundi del nuovo Federico II Draghi che ha commesso errori su errori in qualsiasi ruolo poi ha agito soltanto che chi aveva il coraggio di ricordare queste cose veniva appunto definito eretico io sono felice di aver imparato da degli eretici che spero che non faranno Marco alla fine Giordano Bruno come Barbara e Monio Vadia e che veramente è un onore sapere che abbiamo fatto un libro assieme l'ultimo personaggio anticonformista però non fa parte del libro è il boemo mister Zeman io lo adoro da sempre soprattutto l'anno dei quattro derby perché sono laziale e anche lui fa parte dei podcast appunto del fatto che diano extra ma il suo pensiero bellissimo pensiero contenuto del podcast non è all'interno del libro grazie Marco anche per avermi dato questa opportunità perché l'idea del libro è stata di Marco Lillo e grazie a Barbara e Monio Vadia soprattutto per il coraggio e l'anticonformismo che dimostrate quotidianamente allora io vorrei tornare sul tema del prezzo da pagare per questo anticonformismo e vorrei parlare con Barbara di questo allora Barbara Spinelli voi dovete immaginare che oggi poteva essere osannata dai media mainstream cioè dai grandissimi giornali Repubblica il Corriere della Sera l'avrebbero fatto a gara per averla come firma lo hanno fatto negli anni scorsi chiunque avrebbe voluto averla sul palco nel suo partito finché non ha cominciato a dire delle cose che non andavano d'accordo con quello che è il pensiero comune il pensiero dominante allora Barbara Spinelli è figlia di Altiero Spinelli padre dell'Unione Europea è figlia di è figlia di Ursula Hirschman di famiglia ebrea e che entrambi ovviamente antifascisti entrambi hanno lottato con con quella bestia che ha rovinato l'Europa che ha distrutto vite nel novecento e e ciò nonostante Barbara Spinelli è stata attaccata con con vehemenza da da sinistra per le posizioni che lei ha espresso da battitore libero sulla guerra in Ucraina e allora una fondatrice di di Repubblica che è stata una firma importantissima della stampa quindi i due giornali del gruppo Gedi diciamo oggi è addirittura messa nel mirino dalle firme più importanti di quei giornali e allora qual è il prezzo che bisogna pagare a volte per dover dire anche a quelli che un tempo diciamo erano della propria parte quello che si pensa fino in fondo cioè questa è la domanda che vorrei farti Barbara ma io veramente non so bene quale sia il prezzo perché in realtà nessuno negli ultimi anni dei giornali mainstream mi ha osannato come hai detto tu la dissidenza rispetto ai giornali mainstream è cominciata molto prima quando ero alla stampa sulla questione d'Israele ero troppo filo palestinese e a Repubblica perché ero critica del presidente napolitano e questo era veramente l'esa maesta inoltre non ho nemmeno il senso di aver pagato un prezzo perché quando poi ho fatto la battaglia per entrare nel Parlamento Europeo con la lista che allora si chiamava lista Tsipras insieme a vedo che qui c'è Eleonora Forenza che era con me e quindi abbiamo avuto grandi soddisfazioni nel Parlamento Europeo e eravamo dissidenti praticamente su tutto e già per quattro a per cinque anni contro la russofobia che già esisteva in Europa non è cominciata adesso e mentre invece mi trovo molto bene in compagnia naturalmente del fatto quotidiano ma in compagnia soprattutto della Costituzione perché quando penso all'articolo 11 che è veramente un articolo perfetto che chiarisce in maniera incontrovertibile che la guerra per procura che stiamo facendo in Ucraina ormai nel talk show si dice chiaramente siamo in guerra e nessuno reagisce ma l'articolo 11 parla parte infatti ripudiata la guerra come mezzo di soluzione delle controverse internazionali già questo è una violazione ma molti difensori del degli aiuti all'Ucraina e della guerra dell'Ucraina e della controffensiva dell'Ucraina contro l'invasione russa che condanno l'invasione nell'articolo 11 si parla di limitazione della sovranità necessaria a un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le nazioni e questo in condizioni di parità con tutti gli altri stati ora qui non stiamo combattendo per pace e giustizia ma la linea della Nato è per una guerra oltranza e non c'è parità perché ditemi voi se per caso vi viene in mente l'idea che l'Italia sia in parità con gli Stati Uniti l'Italia è una piattaforma militare che le amministrazioni americane usano e l'Europa anche sta diventando è diventata questa piattaforma militare completamente contro i propri interessi si batte per una guerra senza limite ora quello mi rileggevo in questi giorni il lungo viaggio che Alessandro ha fatto in Russia fino alla Manciuria e mi faceva venire in mente che era un po' come il viaggio che Chekhov ha fatto fino alle isole all'isola di Sakhalin per conoscere lo stato delle prigioni delle colonie penali durante lo zarismo e quello che mi ha colpito in questa inchiesta in quattro puntate è soprattutto la cosa che dicevi Alessandro sul distacco crescente della Russia dall'Europa e questo avviene con Putin ma sono completamente d'accordo con Alessandro rischia di divenire ancor più il giorno in cui Putin venisse spodestato perché è considerato un papamolla e c'è una parola cosa in questi giorni a cui penso moltissimo è che la cosa che dobbiamo temere di più è il momento in cui il governo russo il cremlino smetterà di parlare di operazione militare speciale e comincerà a parlare di guerra perché questo termine che tutti in genere criticano operazione militare speciale i russi in realtà nascondono il fatto che stanno facendo una guerra sì certo però il giorno in cui smetteranno di chiamare l'operazione speciale militare metteranno in campo le forze che hanno e allora veramente è compresa se si sentono alle strette l'uso dell'atomica forse interveremo anche su altre perché mi piacerebbe parlare sull'origine di questa storia dell'Ucraina ma prendo troppo tempo no io faccio un intermezzo penso tutti tutti hanno letto i nostri lettori l'articolo che ha poi destato queste critiche questi insulti possiamo anche chiamarli ai danni di Barbara Spinelli da parte di importanti opinionisti è stato scritto praticamente il giorno dopo l'invasione io stesso quando ho letto sul fatto quell'articolo l'ho vissuto come un pugno nello stomaco perché non era facile scriverlo in quel momento cioè l'articolo era sostanzialmente una guerra se non ricordo male il titolo una guerra figlia di troppe bugie questo era il concetto il concetto legava le bugie che ci siamo detti in occidentali per 15 anni e più e prima ancora della prima parte della guerra in Ucraina diciamo la guerra in Donbass anche prima con l'estensione l'allargamento a est della Nato su il nostro rapporto con la Russia e questa quest'articolo elencava tutto quello che era successo dal dall'unificazione della Germania fino ad oggi e quindi dava una spiegazione dal punto di vista oggettivo dei fatti storici che era assolutamente dissonante con quello che si leggeva su tutti i quotidiani quello che si diceva in tutte le televisioni non è che ci capiti raramente ci capita spesso a noi del fatto però su un tema così caldo come era in quel momento l'invasione della Russia era veramente difficile da lì appunto tutti gli attacchi a Barbara Spinelli devo dire che poi questo modo di vedere le cose in chiave più storica poi si è fatto largo diciamo però chi ha pagato lo scotto sono stati gli apripista appunto come Barbara e Barbara è stata definita da Gianni Riotta un'importante firma di Repubblica io non sono bravo con il tedesco ma dovrebbe essere Putin Werster Werster Putin Werster chi capisce Putin esatto ecco questa però questa parola è molto interessante secondo me perché è stata coniata dai tedeschi proprio per attaccare il partito Linke penso che fosse quelli di sinistra in Germania che quando ci fu l'annessione della Crimea l'invasione diciamo l'invasione della guerra in Donbass cercavano di capire perché fosse accaduto tutto questo e a quel punto furono bollati come quelli che capiscono che cercano di capire che giustificano a seconda di come vogliamo tradurlo Putin questo che quindi è un insulto quasi viene usato come qualcosa che diciamo di deteriore che cerca di mettere in cattiva luce l'interlocutore quindi Barbara Spinelli è quella che capisce Putin è l'amica sua sostanzialmente putiniana questa era poi l'estensione del concetto però se uno va a vedere cioè chi capisce qualcun altro non è necessariamente suo amico innanzitutto ma secondo luogo proprio se quell'altro è una minaccia per te come mondo occidentale come Europa come Italia è bene che tu lo capisca cioè quindi questa parola che viene usata come una clava contro Barbara Spinelli secondo me c'è una radice invece interessante cioè il tentativo di capire viene criminalizzato il tentativo di comprendere le ragioni dell'altro in questo caso anche le ragioni di un comportamento sbagliato da condannare come l'aggressione senza alcuna giustificazione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina però viene trasformato in un atto di complicità e si fa venire meno quello che è il ruolo dell'intellettuale da sempre cioè il ruolo dell'intellettuale non è scendere con l'elmetto in campo e andare a sparare ai russi il ruolo dell'intellettuale è dare un consiglio un suggerimento al politico al cittadino che deve votare il politico per capire in che situazione siamo che cosa sta succedendo altrimenti se tutti sono coinvolti nella rissa nessuno guarda quello che accade dal di fuori e cerca di dargli una spiegazione non se ne esce mai non si trova mai l'uscita quindi tornando al punto di partenza quando hai scritto quell'articolo e poi ne hai scritti anche tanti altri dopo sei rimasta stupita da questa reazione che hai incontrato poi se ci ricordi appunto ovviamente le ragioni che hai espresso in quell'articolo oppure in qualche modo quasi te l'aspettavi e l'hai fatta apposta ecco per svegliare un dibattito che era addormentato e completamente conformista no non mi aspettavo questa ondata di di conformismo e certo la conoscevo come dicevo l'avevo già vista nel Parlamento Europeo che esisteva una maggioranza che considerava la Russia come il nemico e che quindi ricominciava la guerra fredda questo ma la cosa che più mi ha impressionato è quello che è successo dopo gli attacchi al mio articolo altri articoli cioè quando quando sono comparsi nei giornali le liste dei listi dei giornalisti dissidenti le liste di proscrizione e questo mi ha mi ha stupito e mi ha indignato e vorrei dire soltanto una cosa che ho letto recentemente un articolo di Scott Ritter forse qualcuno di voi ricorderà che era uno degli ispettori ONU che negò l'esistenza di armi di distruzione di massa in Iraq insieme con l'altro ispettore che era Blix e Scott Ritter ha raccontato che è stata resa nota una lista di morte stesa da neonazisti ucraini che si richiamano all'eroe dell'Ucraina che è Stepan Bandera che era un collaborazionista degli occupanti nazisti responsabile di pogrom contro gli ebrei è considerato oggi dal governo di Kiev un eroe nazionale questo gruppo che si richiama Bandera neonazista esiste negli Stati Uniti è finanziato anche dagli Stati Uniti e ha steso una lista di morte una kill list di giornalisti scrittori ex funzionari di Stato colpevoli di di essere putiniani e ha scoperto Scott Ritter di essere lui nella lista quindi di essere in pericolo e ha scoperto anche che nella lista c'era la figlia di Dugin che è stata ammazzata infatti probabilmente dai servizi segreti ucraini questo mi spaventa quando un giornale mainstream il Corriere sapendo che esistono forti fazioni neonaziste in Ucraina pubblica una lista con queste foto di identificazione tipo polizia o tipo organizzazioni terroristiche perché questo gruppo di bandera è un gruppo terroristico ecco questo penso che il prezzo forse qualcuno di noi ha anche nella lista nella key list non lo so ma questa è la cosa che più mi ha fatto impressione Moni Ovadia allora Moni Moni Ovadia è sicuramente appunto un ebreo che ha pagato duramente anche lui il pensiero di forme nel suo gruppo perché si è schierato a favore dei palestinesi e poi un uomo di sinistra e anche su questo ha pagato diciamo un duro prezzo a volte anche professionale per dire cose sgradite alla sinistra da sinistra che è la cosa che meno sopporta la sinistra e poi adesso è qui sul palco del fatto Guediano quindi Moni non so cosa puoi fare di peggio per attirarti e dicevo quindi questo a merito del suo coraggio no Moni noi parlavamo prima nel backstage dell'atteggiamento nei confronti dell'invio delle armi all'Ucraina e io dicevo scherzando ma non tanto perché la verità è che ero l'unico al tavolo che era che ho scritto degli articoli sul fatto che hanno a favore dell'invio dell'armi all'Ucraina io sono un convinto sostenitore del fatto che è stato giusto mandarle quindi confesso di essere l'unico qui a pensare in maniera di forma quindi sono contrario anch'io nel mio piccolo qui sul palco però ovviamente questi articoli io li ho scritti mesi fa oggi le cose sono andate avanti sono passati mesi da quando abbiamo dovuto prendere questa decisione poi reiterata confermata dal governo Draghi più volte ecco io quello che volevo chiedere a Monio Vadia è perché secondo te sarebbe stato giusto ed è giusto non inviare le armi agli ucraini che comunque sono un popolo aggredito che ci fa richiesta di armi per difendersi sì la questione non è facile però noi dobbiamo secondo me partire in ogni argomentazione che attiene a cose così delicate da una da un approccio concettuale è giusto mandare armi a un popolo aggredito supponiamo la mia obiezione è stata perché non mandarle ai curdi per esempio allora ho sentito balbetti dai miei interlocutori allora il problema è che non è vero che si mandano le armi agli ucraini per difendere una presunta causa ucraina io ho ospitato in casa mia tre profughi ucraine questa è una delle cose che ho scoperto grazie al libro di Alessandro che non sapevo direi di cioè veramente no no ma è un fatto l'abbiamo fatto per istinto cioè c'è gente disperata e tu io sto sempre dalla parte e chi riceve le persone ecco io sto sempre dalla parte degli ultimi ma ogni volta che parlo di questa cosa dico perché non mi avete lasciato accogliere i siriani volete la risposta perché l'occidente è schifosamente razzista tuttora non fatevi ingannare dal fatto della simpatia per gli ebrei perché quegli ebrei che hanno scelto la via nazionalista cioè il sionismo che è un nazionalismo l'hanno fatto per entrare nel mondo dei vincitori cioè quegli ebrei che fanno parte dell'estate subizionista che siano nel paese o nella diaspora hanno scelto il salotto buono i rom che sono stati sterminati come gli ebrei non ricevono questa simpatia quindi l'ebreo era paria finché è stato paria è stato sterminato nel momento in cui diventa armato fino ai denti oppressore di un altro popolo innocente indifeso allora sei dei nostri beh io non voglio essere dei loro io proprio ma neanche allora volevo farvi notare questo tutti i tedofori appunto dell'atlantismo si riempiono la bocca di democrazia qual è l'indicatore principale di una società democratica lo statuto della minoranza è quello che decide di una società democratica lo statuto della minoranza che la maggioranza ha già il diritto di governare cosa vuole ancora allora che cosa attaccano questi democratici con la S lunga come diceva un comico Maurizio Micheli attaccano proprio la minoranza quelli che non sono d'accordo ora vedete io dall'ebraismo ho preso molte lezioni perché ho studiato ma una delle più grandi lezioni è che di quel coacervo di metici sbandati delinquenti schiavi che noi chiamiamo ebrei perché gli ebrei non hanno mai avuto un'origine nazionale la fondazione dell'identità ebraica è con un'uscita da una terra non con un'entrata in una terra Abramo esce dalla sua terra da Ur dei Caldei e gli viene detto proprio vattene questo è molto bello l'incipit del capitolo di Abramo in ebraico alzati e esci dalla tua terra dalla casa di tuo padre dalla tua tribù cioè per fondare un'identità etica fondata sull'etica dello straniero tu non devi fondare un'identità etnica ma devi destabilizzarla e demolirla allora succede che questa tribù di sbandati non lo dice Moniovadi lo dice forse il più grande rabbino statunitense del novecento quello che erano gli ebrei erano dei metici schiavi erano la schiuma della terra che inventano le lezioni per sfiga grande intuizione siamo gli ultimi quindi siamo i migliori non siamo i primi quindi siamo i migliori bene allora a un certo punto però siccome all'interno di una società come di un partito ci sono sempre quelli che in realtà fanno la rivoluzione protempore per distruggerla poi dall'interno allora quando Mosè sale per prendere le famose tavole della legge tutto tutto il popolo ebraico guidato dai revisionisti sono un vecchio leninista mi servo di questo linguaggio allora cosa fanno fanno il vitello d'oro tutti sono incinocchiati chi salva il progetto è la minoranza di un uomo solo Mosè allora a me quando mi dicono ma la maggioranza sai quanto me ne fotte a me per la maggioranza sono sempre stato minoranza sono le minoranze che trasformano il mondo mai le maggioranze allora se voglio capire cosa fa il governo israeliano e l'autorità militare non ho bisogno di andare a leggere una maggioranza all'altra parte basta che io leggo alla minoranza degli uomini giusti come il grande giornalista Gidon Levi che ti racconta per filo e per segno i crimini commessi dal suo governo e dall'autorità militare del suo paese Gidon Levi ha scritto articoli intitolati Israele non vuole la pace oppure bene grazie alla corte suprema eh di Israele oggi Israele ha le sue bravi leggi di Norimperga quando sono state votate le leggi spaventose che dichiaravano cittadino dell'estato di Israele e l'ebreo voglio dire se fai quella roba lì anche se non è Norimperga in quell'identificazione deterministica ma lo spirito è quello perché l'altro cos'è allora dunque io credo che questo valga anche per la questione Ucraina io ho avuto un osservatorio moderatamente privilegiato perché ho lavorato in uno spettacolo in parte anzi in due spettacoli con eh danzatori ucraini e eh musicisti ucraini ma date avevo sei sei danzatori di cui cinque di Kiev e uno nato a Leopoli non li ho mai 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 sentiti parlare in ucraino mai cioè io passavo nei camerini quando loro parlavano fra di loro li sentivo sempre e solo parlare in russo questo vuol dire che c'è un legame fra i due popoli antico e speciale perché la rus cristiana è nata nel principato di Kiev nel libro tu racconti una cosa molto bella ad Alessandro racconti che come direttore del teatro di Ferrara hai lavorato con questa compagnia e che ti hanno impedito di mettere in scena eh semplicemente perché era un'opera russa sì 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 no io sono direttore del teatro Claudio Abado di Ferrara e no è venuta una compagnia di ucraini e volevano ballare il lago dai cigni di Tchaikovsky è arrivata la velina dal governo no perché è un russo ma i grandi scrittori ucraini come Bulgach come Google sono scrittori della letteratura russa cazzo allora qua lo dico e mi mettono sicuramente nella lista tanto ho 76 anni ma scusate l'operazione di Zelensky è un'operazione che più perversa non si può cioè lui vuole consegnare una radice slava profondamente intessuta con quella russa agli americani per demolire uno statuto culturale millenario in modo da indebolire la Russia perché probabilmente gli Stati Uniti dovendo confrontarsi con la Cina che è una potenza straordinaria che ha un'economia straordinaria l'hanno dichiarato quello vogliamo rendere la Russia una piccola potenza regionale pensa ai russi che sono stati un impero millenario come sono contenti hanno cominciato dal Donbass poi hanno allargato la Nato a dismisura io propongo un quiz da elementari se tu allarghi un'alleanza militare verso i miei confini è legittimo che io ritenga che vuoi difenderti da me e se ti vuoi difendere da me è legittimo che io induca che tu mi consideri un nemico e se tu mi consideri un nemico come vuoi che ti consideri io siamo a dei livelli in cui ci prendono per deficienti e pretendono che noi ci crediamo anche si fanno la faccia stupita indigata come mai dici queste cose allora io una volta molti ebrei miei amici che però sono sionisti quando io ho preso le posizioni sempre più coerenti con quello che penso mi hanno detto perché mi dicevano perché pensi queste cose perché scrivi queste cose e io dicevo non sarà perché le penso vi è mai venuto in mente una cosa perché questi si stupiscono che tu pensi qualcosa sulla base di argomenti fondati poi io cosa ho fatto io con la storia dell'Ucraina sono andato a vedere i grandi specialisti statunitensi adesso parliamo del Putin papamolla il professore emeritus di storia contemporanea dell'università di Boston Andrew Bassevich in una conferenza pur dichiarando che Putin era un aggressore però poi alla fine ha detto questa cosa quello che Putin ha fatto agli ucraini e poi dico in inglese it's minuscule è minuscolo rispetto a quello che noi abbiamo fatto in Iraq e in Afghanistan peccate il professor Andrew Andrew Bassevich è stato colonnello dell'esercito degli Stati Uniti cioè non è uno che faceva il giocatore di bowling forse due o tre cosine le sa e ha avuto un figlio morto in Iraq dunque un uomo che ha delle competenze la stessa cosa dice il professor Stephen Cohen dell'università di Princeton io devo fondarmi su un professor dell'università di Princeton Princeton o su Parenzo qual è la proposta che ci fanno gente che sa argomentare specialisti io devo ascoltare le lucidissime illuminate parole del generale mini o devo che ne so io ascoltare Johnny Riotta adesso vabbè ragazzi tu sei stato generoso hai parlato di grandi penne io direi di grandi pennivendoli piuttosto e ragazzi non siamo di fronte non ho quello che poi ci caratterizza tutti hanno posti di eccellenza eh nel nel mainstream io sono stato boicottato dal PD tutte le volte che è stato fatto il mio nome per la direzione di un teatro tutte le volte perché è proprio quello che dicevi prima Marco allora noi abbiamo qualcosa di eh come posso dire inossidabile io non ho nessuna convenienza non sono sul foglio paga di nessuno non sono iscritto a nessun partito la mia posizione di uomo radicalmente di sinistra è una posizione che però non ha una tessera quindi eh prendo il mio rischio di dire semplicemente quello che penso ma il problema è che noi siamo in una forma di regime che dice no ma lì c'è Putin là c'è Kim Jong-un eh dall'altra parte c'è non so chi qui c'è un dittatore molto più insidioso di tutti questi il profitto delle multinazionali e delle grandi banche mondiali perché non ci vengono a raccontare palle sono loro che comandano i nostri governanti contano come il due di picchi a briscola quando il seme quadri non contano più niente possono contare solo se fanno scusate uso una vecchia parola mi piace molto ripeto sono un vecchio leninista usano sono i cosiddetti la che i camerieri della Nato perché se no nel mainstream non ci stai infatti io devo e qui chiudo esprimere tutta la mia profonda stima Tony Capuozzo per il coraggio che ha avuto da una posizione di lavoro particolarmente scomoda c'è veramente da levarsi il cappello allora personalmente una volta scusate vi devo dire questa cosa no cerco di ridere perché è l'unica cosa che puoi fare l'umorismo ebraico serve a sconfiggere la disperazione è questo una volta mi hanno invitato una cosa organizzata quando c'era ancora casaleggio giovane sul futuro come si vede il futuro e io sono ho accettato l'invito allora un sacco di stampa ha scritto fra quelli che bussano alla porta dei 5S dei 5 Stelle e io ho detto scusate prima di fare il mio intervento farei una prolusione io proprio non so come si fa a bussare alla porta di qualcuno né a saltare sul callo del vincitore non l'ho mai imparato e se dovevo farlo l'avrei fatto a 20 anni quando ero giovane bello e soprattutto biondo figuratevi voi grazie 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 Moni e Alessandro allora visto che si è parlato di questione palestinese c'è un un video che tu hai tirato fuori recentemente di Sandro Pertini tu hai ripubblicato su Instagram un video di Sandro Pertini che parlava in maniera molto diretta molto dura allo Stato di Israele a membri importanti del governo di quello Stato da una posizione ben differente mi pare fosse addirittura un discorso di fine anno cioè parliamo del classico discorso quello istituzionale dove i giornali fanno fatica a tirare fuori qualche concetto per fare il titolo e si inventano frasi che magari il Presidente mai ha detto invece lì Pertini diceva cose durissime trattando come un assassino un membro del governo dello Stato Israele in carica in quel momento Sharon e tu hai confrontato questo comportamento con quello del Partito Democratico che ha tolto dalle liste un ragazzo che ha mi pare vent'anni e penso che a tutti si deve concedere un tweet magari infelice in cui scherzava sulla questione della nascita dello Stato di Israele una questione ovviamente molto seria la trattava in maniera divertita umoristica ma a prescindere dal fatto questo dopo dodici anni non so quanti anni era nelle liste del Partito Democratico viene tirato fuori perché viene tirato fuori un suo tweet a vent'anni ricordiamo che Giorgia Meloni recentemente è uscito un discorso fatto in televisione alla tv francese addirittura in francese in cui diceva che Mussolini tutto quello che ha fatto l'ha fatto per gli italiani quindi immagino anche probabilmente le leggi le leggi razziali erano fatte per gli italiani ebrei evidentemente va bene comunque e non ha mai mi pare chiesto scusa due anni dopo diventò consigliere provinciale a differenza di questo ragazzo di questo non ricordo il nome del PD che è stato fatto fuori la lista in tre minuti e Alessandro ha tirato fuori questo video per dire guardate come è cambiata la sinistra cioè un presidente della Repubblica nel discorso di Feanno potrà dire queste cose di un ministro in carica del governo israeliano oggi un ragazzo non può twittare a vent'anni una cosa in cui mette in dubbio la questione della nascita dello Stato di Israele 15 anni dopo glielo tirano fuori e non può candidarsi ecco il conformismo quindi negli anni non solo a sinistra anche anche in altre parti è cresciuto cioè evidentemente la cappa di quello che si può dire e che non si può dire è diventata più stagnante sì secondo me sì è proprio la dittatura del politicamente corretto andatevi a rivedere certi film degli anni 80 ora cerchiamo di essere un po' più comici veramente oggi verrebbero censurati tutta la commedia italiana Verdone Christian De Sica cose che poi ci fanno ridere e ci tocca pure ridere di nascosto non farci vedere che ridiamo perché altrimenti possiamo essere passibili di giudizi è il politicamente corretto è il giudizio altrui è soprattutto la schiavitù rispetto al giudizio altrui io prima sono arrivato ho visto una signora che assomigliava a mia mamma che mia mamma è scomparsa qualche anno fa di tumore e ho pensato tra l'altro che l'ultima volta che sono venuto alla festa del fatto era viva era tra le prime file sempre a guardarmi in maniera un pochino distante per guardarmi senza farsi vedere ma io la guardavo sempre e ho pensato che ognuno ha i suoi percorsi quando capitano le tragedie uno prova un pochino a a prendere il buono quantomeno delle tragedie anche se non c'è a provarci la morte di mia mamma a me è stata una tragedia così grande che mi ha un pochino liberato dalla paura del giudizio altrui oggi a me non me ne frega niente quello che pensano gli altri quel che scrivo quel che dico anche perché vedo che ho un grande seguito tantissime persone ci sono qui non perché sono sempre d'accordo con quel che dico perché credo che abbiano compreso e abbiano la certezza che quel che dico come quello che diceva prima Moni è quel che penso e sono disposto a fare rinunce importantissima non a rinunciare alla libertà perché è la cosa più importante che io sento di avere il giudizio altrui oggi non è che non esiste è una bugia però cerco di dargli meno spazio i commenti sotto certe cose che scrivo li leggo sempre meno ricordo che l'iniziativa politica che più feci con successo che fu un tour in motorino contro le riforme di Renzi lo feci in concomitanza con l'aver disdetto la rassegna stampa io mi scelgo dei giornalisti li seguo cerco di capire quel che dicono e soprattutto cerco oggi di valutare giornalisti e politici in base a una cosa al coraggio di schierarsi e di prendere posizione perché quando si prende posizione si perde qualcosa si perdono pure amici alle volte anche tranquillità personale e anche posti di lavoro o possibilità di carriera però insomma si vive e ci si guarda allo specchio un tempo ma non così troppo lontano veramente il Presidente della Repubblica che credo che visitò Sabra Shatila anche io ci sono andato lo scorso anno ho fatto un reportage per De Poste Internazionale spero di andarci presto a portare una serie di aiuti anche a palestinesi che vivono ai campi profughi libanesi anche perché è difficile trovare un luogo dove vi sia una tale concentrazione assenza di diritti economici sociali civili e politici come i campi profughi palestinesi o come Gaza ma se a Gaza anziché palestinesi vivessero ucraini e fuori Gaza anziché israeliani amici degli Stati Uniti armati fino ai denti ci fossero i russi ma non parleremo ogni giorno di una prigione a cielo aperto dalla quale è pure impossibile fuggire anche quando arrivano le bombe e a proposito di Letta occhi di tigre io non lo so quale sia il punto più basso toccato dal Partito Democratico di Letta se aver ricandidato Casini in un posto blindato dove un tempo votavano i comunisti se essersi scapicollato per arrivare a Portico d'Ottavia forse prima degli esponenti Fratelli Italia dei Salvini italiani della Boschi anche di un esponente del Movimento 5 Stelle quando gli israeliani facevano l'annesima carneficina a Gaza ma tutti di fretta per farsi vedere dalla comunità ebraica io sono arrivato prima dei Salvini sono Letta ci sono oppure appunto non far candidare un ragazzo perché ha scritto un tweet è una cosa è veramente se ci pensate dello squadrismo istituzionale tutto questo perché sta dicendo alla comunità del Partito Democratico dite esattamente non uscite mai dalla linea nostra ma come fai a migliorare un partito se eviti proprio che possano entrare delle energie capaci di rinnovare di dire tu qui hai sbagliato il concetto è questo è per questo che amano poi l'astensionismo che poi io lo comprendo anche perché quando i partiti dicono una cosa fanno l'esatto opposto più o meno tutti e poi comprendo anche il cittadino che non va a votare o il cittadino che si ritrova al governo Draghi con Salvini e Renzi che hanno buttato giù i governi precedenti di governare assieme cioè comprendo anche i voti alla Meloni che è stata scaltra perché ha fatto opposizione di convenienza non opposizione di circostanza non di realtà però le hanno regalato il paese e oggi gridano al pericolo fascista è ipocrisia pura prima le regalano il paese facendo il governo dell'assembramento e poi iniziano a agitare lo sparacchio fascista gli stessi che con la Meloni hanno votato la guerra in Libia il pareggio bilancio in Costituzione la riforma Fornero tutto hanno votato assieme ma si conoscono e già per me non è non è in realtà non è finzione non è fantasia che stiano pensando in un altro inciuscio perché io so che la Meloni in questo momento teme di prendere troppi voti e in questo momento teme di dover governare perché se segue in maniera totale la linea di Draghi in materia di politica estera che è una linea suicida e lo dico anche oggi che c'è questa controffensiva ucraina è oggi il momento di parlare in negoziato ma come fino a qualche mesi fa ci hanno detto no Putin in questo momento è troppo forte avanza in Donbass quindi non dobbiamo parlare in negoziato perché altrimenti sta in un'opposizione di forza ma allora se è un momento in cui è più debole Putin in patria c'è una parte pubblica opinione soprattutto i giovani perché i giovani uno sono più diciamo anticonformisti Salvatore Allende diceva essere giovani non essere rivoluzionari è una contraddizione biologica ma poi non hanno vissuto gli anni 90 per me andare in Russia in tantissimi luoghi perché sono partito da Belgorod dove ora stanno arrivando i rifugiati russofoni del Donbass che fuggono perché temono le rappresaglie ucraine io ho intervistato rifugiati del Donbass ma guardate che le storie prima Barbara ha avuto il coraggio di parlare del neonazismo in Ucraina ma guardate che non è che siccome sono russofoni muoiono di meno degli altri la loro morte ha meno dignità quando io sono andato a parlare con loro leggevo alcuni alcuni giornali che dicono perché non vai in Ucraina in Ucraina ci sono andati giustamente tanti tanti giornalisti ma quante persone hanno intervistato le persone che sono fuggite dal battaglione Azov ma che non hanno avuto stupri loro ma che esiste lo stupro di serie A e lo stupro di serie B una donna stuprata di serie A e una donna stuprata di serie B un morto di serie A un morto di serie B io sono partito da Belgorod e sono arrivato a Vladivostok dove oggi è appena finita un'esercitazione militare alla quale hanno partecipato cinesi, indiani russi organizzati dai russi diciamo nel mare del Giappone sono arrivato lì e dove hanno partecipato pure gli algerini ma ve lo ricordate Draghi in Algeria a dire finalmente è il primo partner in Italia per la fornitura del gas dell'Algeria tra l'altro si è confuso con l'Argentina soltanto che quando io commetto un errore le mie sono GAF quelle di Draghi sono l'Apsus che veramente è così è così è un refuso eh sì un refuso non c'è stato il correttore che gli ha scritto il discorso perché poi anche questo io quando ho fatto il parlamentare io i discorsi andavo a braccio perché pensavo che funzionasse di più anche per aggregare persone perché poi uno cerca di fare i proseli ti è evidente se fai politica più sei è meglio è cioè è normale fare degli errori perché vai a braccio aumenta il coefficiente di rischio invece gli errori di coloro che si fanno scrivere discorsi vengono sempre perché fanno parte del sistema perché sono quelli buoni quelli buoni contro quelli cattivi oggi per me a volte i pezzi dei discorsi erano pezzi del corriere proprio quindi per questo non vengono criticati è vero è vero avessi tu fatto un discorso con un pezzo del fatto ma figuriamo è incredibile pensate che il primo discorso che feci in Parlamento sui Maroc che fu il primo discorso fatto dal Movimento 5 Stelle dissero qualcuno scrisse che me l'aveva scritto Travaglio io neanche ci ho mai parlato il punto qual è? il punto è che il mondo è molto più complicato e se oggi qualcuno veramente crede oggi nel negoziato e nella pace è oggi il momento di avanzare una proposta ma voi avete sentito un politico italiano europeo avanzare concretamente una proposta per uscire dal potista diplomatico della guerra in Ucraina una proposta concreta per me la prima cosa che va fatta è in questo momento il riconoscimento della Crimea russa perché piaccia o non piaccia è russa la Crimea lo so che questa cosa è uno scandalo ma si sentono russi in Crimea la maggior parte in cambio del cessate il fuoco immediato e poi di una soluzione diplomatica magari anche non l'accetterà Putin vedremo in questo momento magari potrebbe essere più propenso ad accettare un compromesso rispetto al mese scorso anche perché c'è una parte pubblico per me vi dicevo soprattutto i giovani che non hanno vissuto gli anni 90 gli anni in cui i russi veramente hanno subito la fame gli anni delle privatizzazioni sotto Baris Yeltsin anni incredibili di grande delinquenza e oggi tanti russi ti dicono io sto ancora con Putin perché è lui che mi ha portato fuori da quegli anni devastanti in cui i supermercati erano veramente vuoti ma vuoti davvero io non ho trovato un supermercato vuoto ho fatto 13.000 km mentre Repubblica diceva in Russia non ci sono le patatine fritte le patatine fritte in Russia lo leggevo su Repubblica e mi mangiavo le patatine fritte cioè è opportuno uscire anche dalla propria comfort zone perché è la comfort zone che ti fa sentire più tranquillo io lo so che quando scrivo un post se scrivo una cosa rischio gli attacchi se ne scrivo un'altra sto tranquillo però poi non sto tranquillo con la mia coscienza e quindi a un certo punto vado dritto e mi schiero so che quando ti schieri perdi ma santa pazienza guardiamo che è diventata quest'Italia oggi si cita Pertini oggi si citano i grandi magistrati antimafia Falcone e Borsellino salvo poi fare gli accordi con Berlusconi che alla mafia gli ha dato un sacco di quattrini proprio in quei momenti in cui la mafia con quei quattrini faceva saltare quei giudici in aria perché poi so che c'è Salvatore si cita appunto Pertini come esempio però poi Pertini che mi parla della questione palestinese che dice che i palestinesi hanno diritto ad una patria viene tenuto nascosto sempre pensate oggi anche i sindacalisti io ero convinto che la Camusso o Marco sarebbe candidata ero convinto perché li conosco li ho visti come hanno fatto finta di opporsi a Jobs Act a determinate misure che hanno distrutto i lavoratori e siccome grazie a Dio ho fatto un'esperienza in Parlamento e so che se scrivi un comunicato stampo in un modo o in un altro cambia tutto e sappiate che le interviste sui giornali il più delle volte servono per posizionarsi non per creare consenso io ne devo trovare uno che decide di votare Tizio Caio Semprone sulla base di un'intervista ai quotidiani non lo trovo invece servono a posizionarsi a lanciare i messaggi io dico questo quindi sai che puoi contare su di me come il Guzzanti che faceva Rutelli diceva a Berlusconi ricordati da amici ricordati che ti ha voluto bene stessa questione io ti faccio queste interviste ma che io non lo so a me che c'era l'ipotesi Draghi presente del Consiglio me lo disse nel 2020 dopo che lui andò a Rimini a dire esiste il debito buono e il debito cattivo e tutti si comportavano come calboni davanti al mega direttore galattico nei film di Fantossi bravo che genialate il debito buono e il debito cattivo però che genio i soldi buttati in Afghanistan debito buono e debito cattivo la guerra in Libia e il TAV e gli studi di fattibilità del ponte sullo stretto debito buono o cattivo i conflitti di interesse mai realizzati debito buono o cattivo lì me lo dissero guarda che lui sta lavorando lui in quel momento ancora non ci pensava poi ha pensato di fare il Presidente del Consiglio della Repubblica e se non è Presidente della Repubblica Draghi grazie a Dio i due principali responsabili positivamente non hanno fatto Presidente della Repubblica sono due Conte e Salvini e uno deve avere il coraggio di dirlo anche se hai visto hai elogiato Salvini è la verità perché devo come mi devo comportare voglio dire soltanto Conte stavo pure Salvini grazie a Dio poi per me prende una mazzata colossale Salvini a queste elezioni colossali questo è un altro discorso è figlio degli errori che ha fatto vedete voglio farvi Marco scusa l'ultimo minuto se io in quel momento mi fossi comportato così sappiate quando mi hanno detto un uccellino che è poi diventato Ministro del Movimento 5 Stelle si sta lavorando su Draghi io avessero lasciato quattro interviste nel giro di un mese e mezzo la prima si parla di Draghi ma secondo me non è una persona che serve in Italia comunque grande grande stima per quello che ha fatto per l'Euro la seconda beh comunque Draghi è una persona autorevole sentite che cosa ha detto l'Alagard a riguardo non sono stato d'accordo con lui su MPS però persona senz'altro dal curriculum eccezionale la terza intervista Draghi ultimamente mi sta convincendo la quarta Draghi è la persona giusta per questo paese basta così guardate lo fanno tutti guardate Di Maio quello che ha fatto guardate che cosa ha fatto nell'ultimo anno scuse pelose per poter ottenere spazi mai scuse veritiere pelose e perché io sono incavolato perché lo conoscevo e ci ho condiviso la trincea per anni e anni e anni difendendolo contro tutto e tutti e per questo sono particolarmente diciamo non arrabbiato però dico le cose come stanno ecco se io avessi rilasciato quelle quattro interviste sarei diventato probabilmente anche ministro durante il governo Draghi e probabilmente non sarei qui alla festa del fatto quotidiano senza altro Barbara Spinelli e Monio Vadia non avrebbe accettato di scrivere ostinati e contrari ma io non avrei potuto mai scrivere ostinati e contrari no? come faccio? Potevi fare paraculi e colseggio paraculi e conformisti per carità probabilmente ci avrei muti più facili da ottenere e un conto in banca maggiore purtroppo dobbiamo però capito è questo che serve oggi in questo paese ragione per la quale non mi è stato chiesto di candidarmi non è vero abbiamo parlato con Giuseppe io ho fatto le mie valutazioni e credo che in questo momento salvaguardare da parte mia una voce spesso che fa errori che dico delle cose sbagliate perché magari mi documento male allora cerco di documentarmi meglio non è che quello che dico è il Vangelo però è quello che cerco di studiare di dire e di anche urlare sempre in maniera sì ostinata e contraria guardandomi lo specchio e pensando che oggi in un paese di grande conformismo abbia un valore comportarsi così grazie allora io siamo in chiusura una una battuta veramente telegrafica a tutti e tre per chiudere ovviamente nell'essere ostinati e contrari quindi nello schierarsi contro anche la propria parte c'è un lato B il lato B è che si potrebbe salire nell'organigramma della cultura dei teatri magari diventare direttore generale del teatro più importante italiano e invece questo non accade se uno si ostina a dire sempre la verità anche ai propri si potrebbe diventare che so appunto direttore di giornali della delle istituzioni culturali più importanti d'Italia e invece magari appunto si viene insultati dai grandi giornali e nel caso di Alessandro magari si poteva diventare presidente del consiglio segretario di partito non so comunque diventare ministri e quindi uno potrebbe anche dire si va bene ma c'è un po' di narcisismo questa cosa di essere sempre ostinati e contrari perché tu ti guardi allo specchio sei contento però i cittadini che potrebbe avere un vantaggio ad avere un ministro come Di Battista non ce l'hanno i cittadini gli spettatori che potrebbero avere un direttore del teatro dell'opera come Moniovadia non ce l'hanno e i lettori che vorrebbero leggere un giornale diretto da Barbara Spinelli non ce l'hanno speriamo che ce l'avranno però dico adesso il senso la mia domanda è difficile una risposta telegrafica a questa domanda ma questo è un prezzo che non pagate voi però cioè che pagano tutti gli altri cioè il fatto di non fare carriera di non avere potere è il vero prezzo secondo me che si paga ad essere ostinati e contrarie a volte un compromesso in più io so già qual è la risposta per me però lavore da Barbara per Barbara e da Moni per Moni e da Alessandro tu hai più tempo la tua è la più delicata di queste risposte quindi allora la domanda è hai mai pensato Barbara che forse qualche volta fare un compromesso quindi scrivere quello che il direttore di Repubblica voleva non proprio tutto quello che pensava immattirare fuori una riga in questo modo magari avresti avuto più spazio sul giornale per informare i lettori di Repubblica sulla questione palestinese o su quella Ucraina oggi faccio un esempio la stessa domanda vale per Moni Uadia magari avrebbe avuto spazio per stabilire lui qual è il cartellone del teatro più importante d'Italia invece no non ce l'ha questo spazio quindi qualcosa avrebbe potuto comunque cambiare stando nel sistema mazzo è la grande la grande questione è meglio stare fuori dal sistema per cambiare le cose o accettare un minimo di compromesso per stare dentro e cambiare da dentro e questa è poi la domanda che faremo a Alessandro Barbara no non ho accettato compromessi ho cambiato idee a volte ma erano le mie non erano quelle degli altri hai sbagliato da sola ho sbagliato da sola esatto no io vorrei dire una cosa visto che siamo proprio alle ultime alla chiusura a te la vorrei dire sulle armi in Ucraina sull'invio delle armi in Ucraina vorrei mi piacerebbe convincerti ma vorrei dirti una cosa che nel 2008 a un vertice a Bucharest fu promessa l'adesione alla Nato all'Ucraina che un invio massiccio di armi è cominciato nel 2017 con Trump e un non è stata solo l'America a fornire armi sempre più sofisticate ma una serie di stati della Nato quindi stai tranquillo l'Ucraina aveva era già un arsenale militare adesso diventa una specie di bomba seminucleare perché Zelensky aveva detto quattro giorni prima dell'invasione russa aveva detto che usciva dal memorandum di Budapest che era la rinuncia alle armi nucleari quindi stai tranquillo sono pieni di armi e le mafie ne comprano la metà una seconda cosa che vorrei dire è tutti noi che guardiamo questi talk show quando li guardiamo sentiamo sempre parlare della politica imperiale russa ora qui molto brevemente vorrei dare alcuni dati gli stati dopo il 1980 cioè dopo la guerra di Crimea e dopo il Vietnam gli Stati Uniti hanno fatto 15 guerre quelle che vengono dette di scelta cioè non necessarie la Cina nessuna la Russia una insieme in Siria le basi militari l'Unione Sovietica ha basi in 85 paesi la Cina in tre la Russia una in Siria ecco questo semplicemente per dire gli Stati Uniti vuole dire gli 85 paesi erano gli Stati Uniti immagino hai detto l'Unione Sovietica gli Stati Uniti 85 paesi sono gli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno il basi in 85 paesi questo per dire quello che aveva detto Gorbachev qualche anno prima di morire e cioè che dopo che la fine dopo la fine della guerra fredda gli Stati Uniti insieme con l'Europa si sono ritenuti vincitori e cito Gorbachev a partire da quel momento gli Stati Uniti hanno pensato di edificare un impero quindi la vera politica imperiale di cui sentiamo parlare nel talk show è quella statunitense e chi ci fa una figura tremenda è l'Europa che non ha nessuna autonomia e in tutti questi mesi di guerra non si è inventato un mediatore europeo visto che l'Europa interessa per le questioni anche energetica interessa arrivare alla fine di questa guerra uno abbiamo Erdogan come unico mediatore che è una cosa che uno si alza la mattina e si vergogna grazie Barbara io dobbiamo veramente chiudere brevemente voglio soltanto dirti visto che mi hai fatto un'obiezione io penso questo che se oggi come dice Alessandro c'è la possibilità di un'interlocuzione tra un'entità statuale viva cioè tra Zelensky in carica presidente dell'Ucraina e dall'altro lato Putin qualcosa dell'atteggiamento nostro dell'Italia ma che conta pochissimo ma comunque dell'Europa e degli Stati Uniti c'entra io penso che quindi sia stato giusto dare le armi questa è una posizione so che sarà minoritaria ma la dico che dare le armi in quel momento storico era un messaggio politico cioè non si accettava l'uso della forza per risolvere le questioni internazionali questo sia in fase passiva sia in fase attiva non va fatto quindi è giusto citare l'articolo 11 della Costituzione ma bisogna ricordarlo anche agli altri questa questa è la mia è la mia ostinato e contrario anche bravo detto questo detto questo però non è questo non sono io il protagonista e la domanda vera la risposta vera la vorrei velocemente da Moni Ovadia e poi da Alessandro sulla domanda che ho posto cioè tu Moni ti sei mai posto il tema forse ho sbagliato sono stato troppo ostinato e contrario un po' di meno sarebbe stato meglio no c'è una poesia straordinaria di Costantino Scavaffis che si intitola che fece il gran rifiuto dove c'è questo tizio che vengono proposte onori eccetera e dice no poi si tormenta per la vita dire ma ho fatto bene ho fatto male però poi la poesia finisce dicendo ma dopo tanto tempo ancora richiesto che cosa farebbe la sua risposta sarebbe ancora no non traffico con il potere non so cosa farmene e proprio non so come spiegarmi contrario a qualcosa che è molto più della politica molto più qualcosa che attiene proprio a una radice profondissima il potere è di per sé perverso in qualsiasi forma e se tu lo eserciti in modo veramente diciamo eserciti un potere per le cose migliori la giustizia l'equità l'equilibrio ti fanno fuori grazie grazie di questa risposta Alessandro a te la risposta più difficile ti viene mai da pensare che in qualche modo chi ha puntato su di te nel 2013 quando sei stato eletto oggi ti potrebbe rinfacciare questo essere ostinato e contrario troppo sì certo che ci penso mi sono fatto un sacco di volte delle domande però andiamo Marco sul concreto perché tu hai detto accettare compromessi io sono anche cambiato cresciuto sono entrato in Parlamento c'ero 34 anni non ero papà ora sono papà ne ho 44 concretamente tre cose uno la prima volta governo con il Partito Democratico io non ero d'accordo avevo tante perplessità quanto meno giusto o sbagliato poi la pandemia restiamo in quel momento quando avevo delle perplessità pensavo che sarebbe arrivato il Covid ovviamente Luigi mi dice stavolta non puoi non esserci quindi devi far parte del Consiglio dei Ministri io dico va bene ho detto ok sebbene avessi delle perplessità sapendo che un po' cedevo in coerenza in convinzione quindi ho detto sì poi quando Patronelli mi chiami mi dice ok puoi entrare però la regola è che se entri tu questo era un imposto VPD entra pure la Boschi io non potevo dire sì grazie seconda governo Draghi i vertici del movimento mi chiamano e mi propongono dopo che stava rientrando l'ipotesi Renzi anche se io non ci credevo perché proprio quell'uccellino mi aveva detto che si sarebbe arrivati a Draghi tant'è che io scrivissi un pezzo contro Draghi prima che Mattarella gli diede l'incarico e lo pubblicai subito comunque mi dicono vieni a fare miso dell'ambiente al posto di Costa che tra l'altro credo che sta nel collegio contro Di Maio quindi spero che le persone voteranno Costa lì soprattutto io ho chiamato Costa e ho detto che non avrei accettato ma come potevo avevo scritto avevo detto un messaggio io con Renzi non voglio prenderci neanche un caffè come avrei potuto poi accettare di sedermi di fianco a un ministro renziano questo non è compromesso è sputtanamento per me ma no non solo per te grazie a Dio l'ultima adesso perché io stavo in Manciuria esterna come le chiamano i cinesi e con te l'ho chiamato perché poi c'è un rapporto molto schietto l'ho chiamato abbiamo parlato entrambi ma che l'ho chiamato dicendo voglio il posto e lui mi ha detto devi non è così tra persone civili si parlano di determinate questioni politiche e io pure voglio come dire delle garanzie per capire e vediamo che cosa fa certo quando Conte dice gli interessi americani e gli interessi europei non coincidono per me lì è convincente sul tema delle sanzioni non la penso come lui sul tema del PD un partito che ti candida di maio fa un atto stile quindi io mi auguro che il Movimento 5 Stelle con il PD neanche un caffè si prenderà in futuro qualora questo dovesse succedere io avrò delle valutazioni in più da fare però io non potevo posto che non mi è stato detto candidati non mi è stato chiesto di candidarmi proprio perché vi erano delle resistenze interne io in quel momento devo per forza tenere l'asticella alta perché l'ho tenuta alta per tanti anni e devo continuare a farlo proprio perché un giorno e arriverà quel giorno quando io dirò oggi ci sono le condizioni per candidarmi tutti sapranno che non lo sto che non lo sto facendo non lo starò facendo per convenienza ma perché evidentemente ne sarò convinto e forse così si sarà più credibili per portare avanti un progetto politico e quel momento arriverà allora a questo punto abbiamo finito davvero io ringrazio Barbara Spinelli Monio Vadia e Alessandro Di Battista per chi volesse avere il libro di Alessandro ostinati e contrari firmato c'è il firmacopio allo stand di Pepperfest grazie Marco di Alessandro di Alessandro